Detto ciò, quello che insomma andrà affrontato argomento per argomento per poi concludere il triangolo della lettura, mano sinistra, mano destra, ritmo e le note, intendo dire do re mi fa sola si do, mano sinistra e le note due battiti, tre battiti, quattro battiti, un battito eccetera eccetera, mezzo battito, ritmo dunque, come si scrive e come si legge nella mano sinistra e nella mano destra. Tutto ciò andrà insomma affrontato nella prima parte del nostro libro Baby.